ciao a tutti sto per fare l'unboxing di amazon eco visto che sono stato selezionato e accettato di partecipare a questa specie di collaborazione per migliorare questo assistente vocale unito a questo caso ecco che è un altro parlante intelligente vediamo di aprirlo all'interno troviamo un altro parlante e una lettera poi sono le istruzioni un po di guardare all'interno un altro parlante questa è la confezione questo è il cosiddetto lato parlante i tasti funzione sopra ci dovrebbe anche essere poi il logo amazon quello qua e l'alimentazione questo sia il tasto di accensione spegnimento e qua sotto molto probabilmente c'è l'alimentatore tutto molto semplice come soffoca la scritta e togliamo adesso la pellicola protettiva questo è amazon eco e tra poco comincerò a provare il suo funzionamento principale questa specie di collaborazione con amazon e quindi collaborazione con amazon